Finalmente abbiamo avuto modo di testare a fondo Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il particolare esperimento di Square Enix in collaborazione col Team Ninja. Dopo mesi di dubbi e speranza, in questa recensione proveremo a raccontarvi cosa funziona e cosa no in un action che partiva da buone premesse, ma che non è riuscito a realizzarle fino in fondo. Iniziamo subito da un punto fondamentale. Stranger of Paradise non è un remake action del primo Final Fantasy. Al contrario, rappresenta una libera interpretazione di un periodo antecedente a quella storia, modificando rapporti, connessioni e alcuni elementi della lore. Ci troviamo in un mondo che ha smarrito la propria luce, mentre l'entita Chaos tenta disperatamente di far prevalere l'oscurità. In questo clima facciamo la conoscenza di Jack, il protagonista. Egli è in possesso di uno dei quattro cristalli degli elementi, e nel giro di una manciata di secondi stringe una solida amicizia con Jed e Ash. Anche loro possiedono un cristallo, e tanto basta perché seguano Jack ovunque vada. La scrittura si presenta subito come mediocre, accompagnata da dialoghi banali e da una regia che alterna momenti discreti alla totale confusione. Tutto l'arco narrativo si risolve in una manciata di colpi di scena che vengono lanciati col contagocce nel corso dell'avventura, ma che poi esplodono tutti insieme da un determinato momento in poi. Per questo l'intreccio riesce comunque ad interessare e sorprendere, a patto che vi sforziate di credere all'insieme di elementi poco chiari e abbozzati che si riversano sullo schermo, in attesa delle principali rivelazioni su Jack e sul suo gruppo di amici. L'esperimento action messo in piedi dal Team Ninja è interessante, ma purtroppo le sue pecche emergono troppo presto. Il bilanciamento è tutt'altro che ben riuscito. Anche a modalità difficile ci mette di fronte a un titolo mediamente facile, ma che inalza in alcune sporadiche situazioni la propria difficoltà senza alcuna logica particolare. La struttura di Stranger of Paradise si basa su un'importante serie di missioni, scollegate tra loro e raggiungibili tramite un mappamondo che mostra le diverse aree del continente. Qui viene indicato anche il livello consigliato, una dettagliata serie di ricompense conquistabili e una descrizione di quanto accaduto fino a quel momento e di quel che i protagonisti affronteranno in battaglia. Ogni mappa propone una serie infinita di avversari presi di peso dalla storia di Final Fantasy fino al boss che conclude la missione. Conquistata la vittoria, si torna al mappamondo e via così fino alla conclusione della campagna. Niente open world, nessun hub centrale, né tantomeno personaggi non giocanti con cui confrontarsi. Gli unici momenti di confronto sono alcuni dialoghi con gli abitanti di Cornelia direttamente dal menu del mappamondo. La quantità di armamenti e corazze che è possibile ritrovare è soverchiante, soprattutto in relazione alle proprie statistiche e al tempo che richiederebbe studiarle a dovere. Per questo motivo ci si ritrova nel giro di una manciata di minuti ad usufruire del tasto dedicato all'ottimizzazione dell'armamentario. La fucina, poi, altro non è che un menu nel quale scomporre centinaia e centinaia di oggetti inutili e recuperare materiali da usare per aumentare le caratteristiche uniche degli oggetti che stiamo utilizzando. Il combat system vero e proprio deriva direttamente da quello di Nioh, ma con alcune differenze sostanziali. Innanzitutto non esiste una crescita classica dei personaggi. Stranger of Paradise mette in gioco una ventina di job tipici di Final Fantasy. Direttamente dal proprio inventario è possibile equipaggiare due diverse classi, intercambiabili con la semplice pressione di un tasto. Queste utilizzano combinazioni di armi e abilità sempre differenti e sono divise in diverse categorie come base avanzate. Lo sblocco dei nuovi job è legato a doppia mandata alla loro crescita. Acquisire esperienza con il mago, per esempio, permette di sbloccare il mago bianco e il mago nero, il mago bianco consente di arrivare al paladino e così via, in una danza infinita di nuove combinazioni. Il sistema funziona e diverte, anche se molte abilità risultano poco utili e la scelta di inserire solo due slot di classi rapide porta a spezzare troppo spesso il ritmo degli scontri. L'uso di fendenti e magie è ben congegnato. Non esiste una barra della stamina e questo si traduce nella possibilità di attaccare ed eseguire schivate e parate a ripetizione. Gli MP e la barra di logoramento, però, limitano la nostra potenza di fuoco. Quest'ultima rappresenta l'equilibrio e la resistenza dei personaggi e, una volta esaurita, ci troveremo per qualche secondo inermi e vulnerabili. Per gli avversari invece questo significherà quasi sempre morte certa, permettendo a Jack di distruggerli con un attacco utile a creare danno anche agli avversari vicini, ma soprattutto a ricaricare e aumentare i suoi PM massimi. I PM servono a castare magie in classico stile Final Fantasy. Tutta la storia della saga è presente sotto forma di incantesimi e la gestione dei punti mana fa davvero la differenza. Proprio perché è impossibile perdere esperienza alla morte, Team Ninja ha visto bene di intaccare proprio i PM quando si riparte da un prisma. Questi possono essere recuperati con gli attacchi fisici e con lo scudo, che permette di assorbire e rispedire anche alcune delle abilità ai nemici stessi, come fosse un sistema di copia istantanea dell'offensiva avversaria. La meccanica deluxe dovrebbe poi rappresentare una sorta di ultima spiaggia capace di logorare a fondo tutti i nemici nella zona, così da velocizzare l'offensiva e cambiare le sorti della sfida. All'atto pratico, però, non ha grande efficacia effettiva in relazione al grande costo in termini di MP. Come dicevamo in apertura, purtroppo il bilanciamento non è sempre coerente, e si altera completamente con una missione avanzata che permette di accumulare punti esperienza a pacchi in pochi secondi. Un vero peccato. Per quanto riguarda la gestione del party, è possibile anche modificare il proprio team di partenza, che è quasi sempre composto da tre personaggi di cui possiamo gestire equipaggiamento e classi. Nel corso dei combattimenti questi permettono di sfruttare la risonanza, una sorta di richiamo che fa aumentare l'aggressività dei comprimari e che può essere utilizzata più volte dopo un periodo di ricarica. Nel complesso è una meccanica non calibrata alla perfezione che permette di sopraffare la maggior parte dei boss. È possibile giocare anche in coppa fino a tre giocatori, facendo sparire gli NPC e affrontando le missioni insieme ai propri amici con un sistema di matchmaking molto simile a Neo, ma senza la necessità di consumabili da spendere per evocare. Stranger of Paradise non brilla, infine, per il suo comparto tecnico. L'aliasing è onnipresente, spesso fastidioso, le texture sono datate e anche il level design non convince in modo particolare. Il tutto è condito da un comparto artistico non particolarmente ispirato e da prestazioni su PS5 non sempre solide. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ha davvero tanti contenuti da offrire, ma la realizzazione di questo spin-off è nel complesso deludente. La narrativa non rende giustizia alla storia della serie a causa di una scrittura poco approfondita, l'aspetto visivo ha diverse lacune e il combat system congegnato da Team Ninja mostra alcuni elementi interessanti, ma li declina in una struttura mal bilanciata. Rimaniamo curiosi di scoprire se Square vorrà tentare di portare avanti in futuro altri esperimenti di questo tipo, sperando però che abbiano più coerenza di questo. Voi darete comunque una chance a Jack e alla sua compagnia il 18 marzo, quando il gioco uscirà su PC, PlayStation e Xbox? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali, a cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche per non partervi video come quelli che vedete ora qui accanto. Grazie e alla prossima.